Metti like, iscriviti e tagga i boom da bash. Ma ormai non esco alla televisione, han detto oggi c'è allerta carote. Mi piacciono gli orsetti, i lavatori e i bunda bash. Jean Paul lo fa la dub, ma io ti tradirei, soltanto per un piccione. Portami con te in questo viaggio per andare, in Salento dolcemente ma attenzione, oggi c'è allerta carote.